Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, Mauro Caimi qui con voi per l'analisi grafica ciclica Nei mercati finanziari iniziamo dai mercati criptovalute, guardiamo Bitcoin perché sta facendo una serie di movimenti interessanti Forse è iniziato il nuovo ciclo mensile, poi guardiamo anche Ethereum e Binance perché hanno fatto dei movimenti interessanti nella scorsa settimana E poi, dulcis in fundo ragazzi, vi faccio vedere anche un progetto appena iniziato che aggiungeremo di analisi ciclica relativa all'S&P 500 Proprio per monitorare questa forte fase sui mercati old di sale, scende, scende, non sale, insomma dove andiamo a finire Vi farò vedere alla fine del video anche l'S&P 500 perché è in un momento molto particolare e vi faccio notare Una possibilità che potrebbe avvenire da qui durante tutto il mese di maggio Per la quale dovete prestare una forte, forte attenzione Ma prima di andare a vedere i grafici vi devo invitare ad una masterclass ragazzi Che farò il prossimo 29 di aprile ragazzi Sono molto contento di essere stato invitato ancora una volta, ancora quest'anno da XTB Il broker CFD ragazzi che si occupa anche di mercati old, mercati crypto Ma io insomma lo uso per lo più ragazzi quando ho a che fare con piccoli importi Soprattutto per i mercati old, non per i mercati crypto E mi ha invitato a fare questa masterclass E io accetto di buon grado perché ragazzi sono situazioni in cui posso fare formazione Vi faccio vedere subito l'evento e il 29 aprile inizia alle 11 del mattino Quindi alle 11 in prima mattina Diciamo tarda mattina ragazzi Io sarò intorno alle 16.17 nel pomeriggio Ci saranno 5 esperti, insomma 5 trader molto molto famosi E preparati ragazzi Trovate tutto nel link che vi lascio in descrizione per quanto riguarda questo evento Potete registrarvi a quel link che vi lascerò in descrizione a questo video Ragazzi vi faccio vedere io di cosa parlerò Trading moderno, come potenziare le strategie di trading con i trading system Sui mercati old ragazzi Un'idea che mi è venuta da qualche giorno e che è già pubblicata nella mia academy Quella di utilizzare le mie analisi, i miei trading system Per aiutare chi vuole fare investimenti da un punto di vista anche di lungo periodo sui mercati old Un'idea ragazzi, un'idea creativa, molto bella E ve ne parlerò il 29 aprile Iscrivetevi ragazzi al link giù in descrizione Bene ragazzi, allora passata questa cosa Via sui grafici Ok, allora ci siamo Andiamo a vedere bitcoin ragazzi Bitcoin Questa situazione un po' particolare Allora ragazzi è iniziato o no il ciclo mensile dal minimo del giorno 16 di aprile Sembrerebbe di sì ragazzi Ma questo ciclo non ha ancora avuto uno spunto importante Per me è iniziato il ciclo mensile ragazzi Perché? Perché Ethereum, lo vedremo tra poco, ha fatto in effetti una fase rialzista Quindi se Ethereum ha dato la conferma probabilmente è iniziato anche su bitcoin Qual è il problema di fondo? Allora bitcoin oscilla intorno al suo prezzo medio Ragazzi resistenza di breve Ho fatto un video relativamente al valore di bitcoin E oscilla appunto intorno a quel valore ragazzi Come fa da qualche anno E poi ha superato la sua media mobile a 50 periodi Non significa assolutamente niente Ormai l'avete capito Perché ci oscilla intorno come è normale che sia È una media mobile Quindi niente di anomalo ragazzi Però ci sono dei livelli che dobbiamo assolutamente tenere a mente Allora ragazzi per il prosieguo di questo movimento rialzista Bitcoin deve assolutamente E dico assolutamente superare i 7500 dollari Se bitcoin non sale al di sopra di questo livello Allora abbiamo un ciclo mensile molto spento E molto pericoloso Ve lo farò vedere E perché alla fine del video ragazzi Metteremo Diciamo Chiuderemo un po' i puntini Guardando anche S&P 500 Abbiamo visto nella settimana scorsa Nel mio video Sulla correlazione del mercato Andatevelo a vedere ragazzi se ancora non l'avete visto Perché è un video super potentissimo Da un punto di vista dei dati Vi metto il link ragazzi Vi metto il link sulla mia testa Abbiamo visto che sono correlati Quindi probabilmente la correlazione durerà ancora per un po' E nel momento in cui S&P 500 magari va a fare determinate cose Che vedremo alla fine del video Bitcoin probabilmente seguirà in questa fase Quindi al momento ragazzi Mercato L-Crypto indeciso E devo essere sincero E indeciso Ma l'aggiornamento di questa settimana Non muta Quella che è la situazione di medio periodo Ragazzi con questo famoso annuale Che probabilmente è iniziato qui E che purtroppo Dovrebbe essere interamente ribassista E dovrebbe andare a configurarsi In close a novembre-dicembre Il prossimo anno Con questi tre cicli sottostanti Che vedete Da 160 giorni ribassisti Quindi questo ragazzi Sarebbe una semplice metà E poi dovremmo andare appunto In una fase di chiusura Verso fine mese di maggio Però ragazzi Il mercato Bitcoin Bitcoin stupisce quasi sempre Vediamo Vediamo Perché E' veramente una view Estremamente negativa Questa Di un annuale totalmente ribassista Quindi Non l'ha escludo ragazzi Perché poi purtroppo Dobbiamo guardare i grafici I grafici parlano così Però io sinceramente Poi E chiaramente Faccio le mie operazioni Anche in base a quello Che il mercato va a fare ragazzi Quindi non prendete Queste cose come previsioni Sul futuro Che sapete bene Non esistono Da un punto di vista Di settimana In questo momento Abbiamo dei livelli Da monitorare Il minimo Importantissimo A 6500 E il massimo A 7500 Se Bitcoin Riuscirà a rompere Questo massimo Darà la E la Via Ad un ciclo Mensile Nuovo Probabilmente Che tenterà Magari di essere Un ciclo Accettabilmente Rialzista Se invece Rialzista Se invece resta Qui E ci resta Per un po' Di tempo La situazione Si complica Ragazzi E poi Attenzione L'eventuale Break Dei 7000 Dei 6500 Scusate Perché Configurerebbe Poi Un ribasso Notevole Ragazzi Del mercato Perché potremmo Anche scendere Notevolmente Ritornare Intorno ai 5500 Che poi È un prezzo Accettabile Per Bitcoin Guardiamo Appunto Anche i livelli Per esempio Di Livelli Per esempio Di supporto Al ribasso Ci sono 6500 In questo momento E poi Questa fascia Qui di prezzo Ragazzi Questa fascia Che va Tra i 6500 E i 5500 Quindi Molto Molto Ampia Al rialzo Invece Cosa Abbiamo Sopra I 7500 Resistenza Stratosferica Molto Molto Importante Dal punto Di vista Ciclico Abbiamo I famosi 8000 Che coincidono Anche con Vedete La media mobile A 200 periodi Che sono Che è qui Ragazzi Quindi in questo Momento Ed è una Resistenza Una super Resistenza Molto Importante Velocemente Passiamo Su Ethereum Volevo farvi Vedere Su Ethereum Come il ciclo Probabilmente Ragazzi Ha avuto Un andamento Più potente Rispetto A quello Di Bitcoin Vedete Questo Probabilmente È stata Una close Di un mensile E da qui In poi Il mercato Ha rotto Anche i massimi Precedenti Il problema Dov'è Ragazzi Il problema È che Su Ethereum Veramente Dopo Un rialzo Di questo Tipo E anche L'altro giorno Qualcuno di voi Mi ha scritto Per esempio Perché non parli Delle altcoin Ragazzi Non parlo Delle altcoin Perché intanto Seguiranno A ruota Bitcoin Vedete Che Bitcoin Segue L'S&P 500 In questo momento Figuratevi Le altcoin Cioè Quindi Seguiranno Seguiranno a ruota Bitcoin In questo momento Non c'è scampo E nel momento In cui Poi ho Una regina Delle cripto Che mi ha fatto Questo balzo Qui ragazzi Fino a febbraio E dopo Questo crash Pesantissimo Allora Per avere un trend Ragazzi Che possa essere Definito Un trend Di medio Rialzista Ethereum Ragazzi Deve andare Sopra Questo massimo Cioè Deve arrivare qua Avete capito L'importanza Insomma Enorme E poi Addirittura Deve andare A rompere Questa resistenza A 350 Insomma Siamo Lontanissimi Ragazzi Lontanissimi Quindi Si Si può fare Trading In questa fascia Di prezzo Sicuramente Perché Ethereum Per esempio È un trading Molto ampio Soprattutto In questa fase Perché Ha spazi Molto ampi Di azione Comunque Il rientro Al di sopra Di queste Medie Ragazzi Nulla è Che Trading Grange Ormai L'avete capito Come ragiono E nel momento In cui andiamo A fare Il nostro Livello A indicare I nostri livelli Questo qui Che era Un precedente Livello Di 200 195 Diventa La resistenza Una resistenza Importante Anche per Ethereum Che va Monitorata Da un punto Di vista Ciclico È identico A Bitcoin Quindi abbiamo Probabilmente Un nuovo ciclo mensile Qui Che però Ancora una volta In questo caso Dovrà andare A configurarsi Come un ciclo Che dovremmo vedere Ragazzi Di solito Eterimo Fa più di 40 giorni In scadenza Poi verso fine mese Di maggio Ancora una volta Passiamo A Binance Coin Stessa identica cosa Ragazzi Nuovo ciclo Per Binance Coin Che fa cicli Che fa cicli Quasi sempre così Ragazzi A montagna Io li chiamo In questo modo E non sembra avere Diciamo Voglia Di Cambiare La sua struttura Ciclica Quindi sale Fa una montagna Al centro E poi riscende Ancora una volta Questa scadenza ciclica È prevista Per i primi di giugno Quindi fine maggio Di nuovo ragazzi Non so se vedete La concomitanza Delle scadenze cicliche Per quanto riguarda Bitcoin Fine maggio Per quanto riguarda Ethereum Fine maggio Per quanto riguarda BNB Fine maggio Ancora E ancora una volta Ragazzi Potrebbe essere Questo Diciamo Già un punto d'arrivo Per Binance Perché Sbatte Sulla sua resistenza 17 dollari Vedete La successiva È molto alta Ed è 22 Quella che Percedentemente Era un supporto Non l'avevo Modificato Lo modifichiamo Insieme Resistenza Non è più Di breve Ma è di medio Ok Bene ragazzi Abbiamo fatto Insieme 22 22 dollari E a questo punto Ragazzi Dobbiamo andare a chiederci Cosa dice L'S&P 500 Ve l'avevo promesso Andiamo Sul grafico S&P 500 Perché vi faccio vedere La concomitanza ciclica Di un ciclo mensile Di S&P Allora ragazzi Ho fatto Quest'analisi Relativa ad S&P 500 Dalla Agosto Del 2019 Ma potremmo Anche andarla A fare precedentemente Era lo stesso Mi sono fermato Lì Ragazzi Allora S&P Fa cicli Intorno Ai 45 giorni Di borsa aperta 60 Più o meno Giorni Di Mercato Quindi Scusate Di calendario solare Non di mercato E fa Queste oscillazioni Lo vedete In maniera Molto chiara Ragazzi Qui è un ciclo Un po' più corto L'unico Da circa Un anno A questa parte Ma è normale Perché è stato Fortemente ribassista Dove siamo? Beh probabilmente Saremo in un ciclo Intorno ai 40 45 giorni Che guardate un po' Dove va a concludersi Fine Maggio 2019 Ragazzi Fine maggio 2019 Sarà Un momento Epico Dei mercati Non lo so ragazzi Io faccio anche Il compleanno Intorno a quella data Quindi festeggiamo Con il crash Spero proprio di no Tralasciando Diciamo questa informazione Andiamo a vedere Quello che può succedere Su S&P 500 Ciclicamente Abbiamo visto Che siamo in questa fase C'è ancora spazio Per salire Sì perché il mercato Potrebbe andare a fare Il suo massimo In questa parte Quindi Durante la La prima decada Di maggio In sostanza Da fine aprile Ai primi 10 di maggio Quindi in questo lato qui Potremmo assistere A una close leggera Di questo ciclo Pensile Poi una ripartenza Magari di questo tipo E poi andare a fare Una chiusura Più Diciamo Naturale Perché i mercati Old ragazzi Ricordatevi che Ragionano un po' così Quello che dovremmo Cercare di capire A questo punto È da dove si parte E ricordatevi che Questi cicli Hanno sempre Una fase intermedia È un ciclo Da 46 bar 65 giorni Di calendario solare Ma in sostanza Potrebbe Tranquillamente Fare Un piccolo Ribasso Intorno A questa settimana Verso Il Appunto 23-24 Di aprile Questo potrebbe Essere una prima fase Di bassista Per S&P 500 Che potrebbe essere Anche seguita Da Bitcoin E altcoin In generale Ragazzi Quindi facciamo Attenzione Perché abbiamo Visto che i mercati Delle cripto Non sono saliti In maniera Molto Preminente Molto forte In questo momento Dove potrebbe Andare S&P 500 Andare A Diciamo Ad appoggiarsi Su queste medie Che sono Insomma Le medie mobili A 21 Queste sono 22 A 11 Ragazzi Medie mobili Esponenziali Il primo livello Di supporto Per S&P 500 E 2650 dollari Vedete Qui ragazzi Ve lo scrivo 2650 dollari Il primo livello Di supporto Per S&P 500 Qual è invece La resistenza Da battere In questo momento Il massimo Che ha fatto Nella giornata Di venerdì E cioè 2888 Oppure Per farla breve 2009 Ragazzi Così siamo Più Ampi Questi livelli Di prezzo Per S&P 500 Per essere Un mercato Old E molto ampio Questa Oscillazione Attenzione Alle date Che vi ho Indicato Verso fine Aprile Ma poi La data Clue Ragazzi È il 28 Di maggio Cosa ne Pensate voi Di questo Tipo di Analisi Stiamo andando Incontro Veramente A un maggio Importante A un maggio Difficile A un maggio Che potrebbe Riservarci Nella sua Parte finale Dei movimenti Di ribasso Lo vedremo Chiaramente ragazzi Dobbiamo sempre stare Attaccati al mercato Ma poi volevo Anche dirvi Una cosa Chi di voi Mi risponde A una domanda Secondo voi Bitcoin Ha performato Così male Rispetto a S&P 500 Prossimo video Che arriverà Sul canale Perché ho fatto Una delle mie Analisi Ho fatto Una delle mie Analisi Di dati E volevo Farvi vedere Una conclusione Estremamente Importante Quindi ragazzi Iscrivetevi Se ancora Non l'avete fatto Per oggi è tutto Buon inizio Settimana Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao